Piazza Costa a Fano è da tempo ormai sotto l'occhio del comune, dei cittadini e della soprintendenza per via degli scavi archeologici in corso che hanno creato due anime. Una è quella dei commercianti che chiedono di poter tornare a lavorare senza le impalcature intorno alle loro attività. L'altra invece quella di vari cittadini che chiedono di valutare l'importanza degli scavi in corso poiché potrebbero celare il cardo massimo di Fano o informazioni utili sulla Basilica di Vitruvio. Il punto della situazione lo dovranno fare gli organi competenti quindi la soprintendenza e il comune. Io osservo quello che sta succedendo vedo che dopo l'appello fatto al sindaco e alla soprintendenza qualche cosa si muove per l'esplorazione archeologica e quindi i prossimi giorni bisognerà aspettare. Poi le informazioni su quello che si trova è bene che lo dia soprattutto la soprintendenza. Io avevo sollevato, parlo per me, ma anche il comitato, anche questo gruppo di persone che si sono mosse a seguito del mio intervento. Noi avevamo, io avevo chiesto che si verificasse l'ipotesi dell'esistenza in questo settore di lavoro, l'esistenza del cardo massimo della città, perché questo è uno dei due problemi fondamentali della topografia romana di Fano. È stato detto che sono state trovate delle tombe e le strutture che appartenevano alla chiesa di San Daniele demolita nel 1910 per la costruzione del mercato del pesce e delle verdure. Ma poi io tanto altro non so. Alla ipotesi del cardo massimo è legata anche l'ipotesi della localizzazione della basilica vitruviana che doveva essere nelle vicinanze dell'incrocio tra il cardo massimo e il decumano massimo della città, il decumano massimo che è via Arco d'Augusto, quindi qui siamo a due passi da noi. L'abbiamo messa sull'avviso che era un'occasione irripetibile per verificare appunto l'ipotesi che le ho detto dell'esistenza del cardo massimo qui o dell'esistenza di altre costruzioni perché se non c'era il cardo massimo c'erano altri edifici e a lato del cardo massimo comunque ci dovevano essere altri edifici romani. In una città che investe tanto sulla romanità, vedevo qualche giorno fa la registrazione della Fano dei Cesari, una cosa così partecipata di massa eccetera, non si possono lasciar perdere occasioni come queste di investigazione del patrimonio archeologico.